il gol del 5 a 2 e siamo a Videoton Malmo il Videoton che l'anno scorso ha conteso a Real Madrid il trofeo vince per 1 a 0 con questo gol di Begg 1 a 0 per il Videoton sul Malmo e l'incontro di ritorno si presenta molto equilibrato era questo l'ultimo gol della nostra rassegna